A differenza di, mi duole dirlo, ma tanti brand europei o soprattutto italiani pensano che in Italia siamo tutte quante con l'incarnato mediterraneo. Certo! Questa non l'avevo aperta, si è aperta adesso! Io sono famosa sui soja cari e cari anche perché butto le scatole con roba dentro. E comunque è fantastico perché non fa pieghette cari e cari, quindi se cercate questa cosa come la vostra cosa più importante, io lui ve lo consiglio. Cari e cari bentornati sul mio canale, oggi facciamo un video che sono certa, sono certa che vi interesserà. Andiamo infatti a provare e a recensire, per quanto mi riguarda, tutti i correttori più chiacchierati del periodo. Ci sono anche degli evergreen perché comunque continuano ad essere buoni, continuo a trovarmi ci bene e quindi ci sono sia novità che grandi classici. Non ho fatto una classifica ancora personale, questo video è proprio pensato per farla assieme, nel senso che io mi sono preparata proprio qui un fogliettino per votare i correttori e quindi in questo video non sono inseriti in ordine di preferenza, ma andiamo a rivederli tutti assieme naturalmente applicati, ecco perché sono struccata, e io gli darò un voto da 1 a 10. Questa cosa la potete fare anche voi qui sotto nei commenti, votando appunto i correttori che avete preferito e quelli che avete preferito meno. Se vedete qualche prodotto che praticamente è nuovo, io lo conosco molto bene ed è per questo che vi faccio la recensione, molto probabilmente l'ho ricomprato, oppure è un prodotto che io doppio, perché questa cosa io ve l'anticipo sempre sul mio canale, io sono anche una pro makeup artist e molto spesso ho le cose doppie o triple, soprattutto se mi ci trovo molto bene perché molte le porto nel kit o appunto sul lavoro in viaggio e altre le lascio qui in studio. Io direi di partire perché so che state fremendo, quindi cominciamo subito, preparatevi! Non c'è scampo, non c'è inganno, zoom impietoso e se vedete appunto, dato che sono struccata, dov'è? Dove l'ho messo? Aiuto! Dicevo che se vedete un cerottino qui sulla mia fronte è perché ho messo a marinare il foruncolo che ho proprio qui a centro fronte, è davvero perfetto per noi e ho utilizzato il Magic Patch SOS del brand coreano Tozo Wong. Hanno proprio un materiale proprio super morbido che si adatta alla pelle, quindi ci si può mettere sopra tranquillamente anche il makeup. Loro isolano il brufolo, però assorbono il sebo così da accelerarne la guarigione e oltre a ciò lo proteggono, grazie agli ingredienti appunto che sono al loro interno, perché sono dei patch idrocolloidali, evitano che peggiori la situazione, anzi aiutano la guarigione. Sono talmente carini, cioè che proprio non si vede. Li trovate sul sito di YesStyle, controllate sempre l'info box per eventuali promo code. Naturalmente io idraterò ogni volta il mio contorno occhio e quindi vado ad utilizzare il Depuff di Veralab. Sapete che io ho comprato un po' di cose di questo brand perché ci voglio fare una recensione approfondita, una One Brand Challenge, quindi sto testando tutto per bene. Prendo molto seriamente il mio lavoro. L'applicatore è con le tre microsfere, che a me piace moltissimo, e grazie all'estratto di semi di chinoia e un emulsionante zuccherino idratante, aiuta sia per quanto riguarda l'idratazione, ma anche per quanto riguarda lo sguardo stanco e i gonfiori. Procediamo. Prodotto numero uno, il Rapid Retouch Cream Concealer nella colorazione Fair di She Glam. E beh sì, certo, eccoci qua, brava Eric. Stavo dicendo che faccio bene il mio lavoro, vabbè. Allora, questa colorazione è davvero fantastica, vedete che appunto io ne ho tipo tre di questo, quindi non vi preoccupate se lo vedete poco utilizzato. Per quanto riguarda lui, cari e care, la colorazione è sì chiara, ma se notate è anche un pochino peschina, quindi è davvero, davvero molto interessante proprio a livello di nuance. E lui è bello presente come correttore, perché non è un fluido, ma non mi fa le pieghette. E questo io vi consiglio, sia per quanto riguarda lui, ma anche per quanto riguarda proprio i correttori compatti, quindi non liquidi, io vi consiglio di sfumarli con un pennellino, piuttosto che con la spugnetta, perché essendo più grassi, con la spugnetta rischiate di tirarli via troppo, di toglierne troppo. Questo è il primo correttore, quindi questo qui, compatto di Shiglam. Io mi ci trovo davvero bene, mi piacciono molto perché non seccano. Devo dire che la situazione è nettamente migliorata. Considerate, come sempre, ma lo vedrete anche in questo video, che il solco, che è questa zona che io ho un po' rientrante dell'occhiaia, per quanto riguarda il solco, non è che si possa fare chissà cosa, perché è appunto una zona rientrante. Quindi quello che a me interessa è correggere l'occhiaia. Anche la formulazione è bella cremosa, cioè non stiamo parlando di un qualcosa di secco. Mi piace molto come è formulato questo prodottino, e vi ribadisco che la colorazione Fair, se cercate un qualcosa di chiaro e peschino, ve lo dico spesso che i brand asiatici le cose chiare e peschine le fanno, a differenza di, mi duole dirlo, ma tanti brand europei o soprattutto italiani pensano che in Italia siamo tutte quante con l'incarnato mediterraneo. Certo! Bene, detto questo, cari e cari, siccome appunto a me sta piacendo molto, io per quanto riguarda lui gli do un bel nove pieno. Quindi vado a scrivere sul mio fogliettino e poi alla fine del makeup vediamo quali sono proprio i vincitori che hanno sbancato tutto. Ci sono delle bellissime colorazioni chiare anche con svariati sottotoni e quindi vi mostro per esempio anche Pink Pearl, nel caso aveste bisogno di un qualcosa di più rosa, sempre chiaro che viri sul rosa, e Linen, che invece è questo colore chiarissimo, neutro, oserei dire, per persone super super mega chiare. Quindi ci sono varie colorazioni, vi faccio vedere gli swatches e naturalmente caricare per quanto riguarda questo video, io vi mostrerò e applicherò le colorazioni che sono più adatte a me. Ma naturalmente l'obiettivo del video è quello di parlarvi della qualità del prodotto. Bene, cari e cari, adesso passiamo a MAC, lo Studio Radiance. 24 Hours Luminous Lift Concealer. Quando mi è arrivata la box, vi devo dire che io l'ho preso subito e l'ho portato in accademia per vedere come rimanesse per diverse ore su di me. Anzitutto un plauso al brand che mi ha inviato una colorazione sola, ma è perfetta per me. Ah, e sapete con cosa procediamo? Per fortuna che ho aperto... Questa non l'avevo aperta, si è aperta adesso! Allora, io sono famosa sui Zouja a caricare anche perché butto le scatole con roba dentro, perché non scopro dei cassetti segreti, quindi i brand sono molto simpatici, ma tipo questo cassetto non l'avevo aperto e penso che sia un portachiavi per... Aspettate, guardate le mie capacità motorie! Tra l'altro non vorrei che fosse addirittura in pelle, non ne ho idea, però c'è un portachiavi per portarsi dietro il correttore occhi, cioè più pro di così. Stavo dicendo, cari e cari, che per fortuna una finestra l'avevo aperta e qui ci sono proprio i pennellini super particolari con cui MAC consiglia proprio di applicare questo correttore, quindi usiamo loro. Io credo di procedere con il medio. Benissimo che vediamo anche il risultato proprio con i loro pennellini. La colorazione che mi è stata inviata è NV11 e devo dire che per quanto mi riguarda è perfetta. Intanto vi leggo anche che questo qui è un correttore composto all'80% da ingredienti skincare come la niacinamide, la vitamina C e l'acido ialuronico. Quindi è pensato anche per idratare la pelle, migliorandone l'aspetto nel tempo. C'è questa, diciamo, nuova corrente dei prodotti Makeup Ibridi Skincare. Benissimo, benissimo se un prodotto ha ingredienti skincare e è arricchito da questa nuova concezione, mi sta benissimo. Certo è che se non copre tanto preferisco prodotti magari di concezione più pro. Perché dovete sapere, cari e cari, che per esempio i prodotti che noi utilizziamo in accademia sono, sì, MAC e Makeup Forever, nello specifico, però è meglio a livello professionale non utilizzare prodotti di questo tipo, quindi ibridi skincare, perché non sai mai con troppi ingredienti attivi come si comportano sulla pelle di un cliente. Quindi vi do appunto questo pro tip. A livello professionale è meglio utilizzare prodotti universali, senza concezioni curative. Certo che l'idratazione mica la buttiamo via, mica ci fa schifo. Non sono propriamente per adesso colpita da questo pennellino. Ho visto che a un certo punto mi serve la spugnetta e per i liquidi potete tranquillamente andare con la spugnetta. Questo è il risultato appunto con il MAC Studio Radiance. Io vi dico che durante il giorno mi è piaciuto, sicuramente. Ve li faccio vedere meglio tutti e due da vicino, quindi Shiglam e MAC, quindi molto bello, vedete. Sicuramente appunto il risultato è molto elastico, idratante. A me durante il giorno questo mi ha fatto meno pieghette, questo un pelo, vedete che c'è un pelo di pieghetta. Quindi è molto bello, idratante, ribadisco. Va fissato bene con la cipria, ma nemmeno troppa, perché sapete che troppa cipria non va bene. Per quanto riguarda lui caricare, io gli do un bel lotto pieno, perché ovviamente per un utilizzo personale mi interessa la questione skin care. Unica cosa durante il giorno non ha una coprenza estrema, diciamo, e ho visto una piccola pieghettina. Niente di che, trattasi comunque per adesso di uno dei correttori di MAC che preferisco, perché per esempio il Mineralize, ve lo prendo, dicevo perché ad esempio il Mineralize, questo qui, non mi fa impazzire, perché appunto fa le pieghette ed è troppo blando. Il Pro Longwear, invece, sempre di MAC, è uno dei miei preferiti in assoluto e ha un'ottima coprenza, lo sapete, è famosissimo. Rimane il fatto che comunque dopo un po' si secca. Questo invece non si secca. Rimane bello tutto il giorno e idrata tutto il giorno. Su questo non si può dire niente. Prendo nota, eh, qui non si bara, sto prendendo nota. Dovete sapere che un correttore materico rispetto ad uno liquido sicuramente è più presente, quindi bisogna vedere over 50 se dà problemi. Ma questo comunque risulta, cioè, proprio bello cremoso, bello cremoso idratante. Aiuta maggiormente la materia, essendo proprio più riempitiva, a neutralizzare un attimino la questione del solco, come vi dicevo. Invece i liquidi comunque si adagiano maggiormente sul solco. Quindi procediamo con la prossima coppia. E cari e cari, in questo video non potevo non inserire uno dei correttori più chiacchierati degli ultimi tempi, se non proprio degli ultimi dieci anni, secondo me, il cancella età di Maybelline. Allora, la colorazione light, che è la mia, è quella un po' più difficile da trovare in giro, perché tipo nei supermarket, nei drugstore ci sono quelle più scure. Molto famoso, cari e cari, e oltre a ciò sicuramente molto interessante. Allora, lo potete sfumare sia con un pennellino, oppure data la sua concezione prodotto ready to go da portare anche in borsetta, andiamo anche con il ditino, così vi faccio vedere proprio un utilizzo che farei nel quotidiano. Allora, correttore sicuramente molto valido. Questo prodotto, c'è un motivo se piace a tante persone. Io lo trovo sicuramente bello, mi piace, secondo me pialla anche un pochino, vedete, proprio carino, elastico, leggero, gli do un nove e mezzo, non gli do un dieci per il semplice fatto che comunque un minimo di alone, di occhiaia, si intravede ancora. Io riesco a capire quando si intravede un po' l'occhiaia e quando il solco, cari e cari. Una cosa che potete fare è girarvi e vedere appunto annullando il solco se si vede ancora un pochettino di blu viola. Io un po' lo vedo, quindi non ha una coprenza estrema, ma è anche pensato per andare bene per la maggior parte del contorno occhi, anche anti-age, perché lui appunto è il cancella età. Gli do un nove e mezzo, sia perché ha questo affare che va benissimo per me, ma non a livello pro, e poi perché non ha una coprenza estrema. Di qua, cari e cari, andiamo di Estée Lauder, il Double Wear. Chiacchieratissimo, sia il correttore ancora di più il fondotinta. Ecco, per esempio, a me non fa impazzire il fondotinta di Estée Lauder, il Double Wear. So che molti lo amano alla follia. Io vi devo dire che, spoiler, come il correttore, vira un po' sul secchino dopo un po' di ore. Allora, la coprenza è magistrale. Adesso la vedrete. Guardate che roba. Veramente altissimi livelli. Non si può dire naturalmente che non ci sia la qualità. Stiamo parlando di un correttore ad altissimi livelli, cari e cari. Guardate quando mi giro. Altissimi livelli. La formulazione di Estée Lauder, lo sappiamo. Vedete che è più coprente di questo? Per questo vi dico, ok, per sua concezione ci sta al nove e mezzo. Però questo è più coprente. Questo secca meno durante il giorno, se non quasi non secca. Invece il Double Wear, e io non ho nemmeno il contorno occhi particolarmente secco, eh. Dopo un po' di ore, appunto, un cincinino di seccume. Lo vedo. Stessa cosa per quanto riguarda il fondotinta. Quindi è un ottimo prodotto, ma la questione secchezza per me è importante e quindi gli do un otto e mezzo. Rimane il fatto che se voi avete un contorno occhi grasso, probabilmente lui potrebbe essere la vostra salvezza. Perché gli altri magari si sciolgono, sono troppo idratanti per voi, non capivate perché. E il motivo è perché avete il contorno occhi alla zona della palpebra e anche qui sotto tendenzialmente grassi. Quindi, un correttore di questo tipo, segnatevelo se avete questo tipo di pelle. Perché vi rimarrà di più. Posso dire che questo contorno occhi non lo posso ancora recensire di Veralab, ma mi sembra molto interessante. Perché mi sta anche aiutando proprio a non arrossare troppo la zona, dato che la sto truccando e ristruccando. Vedete che comunque è bella tesa e non è cacchiata la zona. Quindi, secondo me, ha molto potenziale questo prodottino. Adesso, cari e care, andiamo con questo correttore qui di Kiko, che è il full coverage. E quindi, appunto, alziamo l'asticella delle aspettative di Kiko. E la colorazione è fantastica. Quindi partiamo dal fatto che la 17 sembra neutra, ma non è. Sembra neutra, ma non è. Cioè, visto così, dite, vabbè, cioè, non è peschino. Invece vi assicuro che ha un sottotono molto interessante, che si amalgama perfettamente con la mia pelle. Non rilascia nessun alone giallo e è molto bello cari e care. Ve l'ho già detto che questa parte destra è quasi la peggiore per quanto mi riguarda. Ebbene, guardate che roba. Veramente ottimo questo correttore. Tra l'altro, stratificabile, elastico, proprio bello. Mi piace tantissimo. Anche qua mi sa che arriviamo... Non so se dagli 9 o 9,5, perché comunque è ottimo. Allora, gli diamo 9 perché c'è qualcosa che sicuramente mi piace di più. Però, cari e care, vi assicuro che qui siamo davvero ad alti livelli. Tra l'altro, mi fa un sacco piacere che molti mi scrivono, e molte, che, Erika, utilizzo tutte le stesse tue identiche colorazioni. Quindi, vedete, cioè, ci sono le persone fantasmin, sono anche tantine. Quindi è importante, secondo me, non solo naturalmente l'estremo della parte scura, ma avere anche attenzione all'altro estremo degli incarnati chiari, perché non si può partire con un uno che sia un arancione. Andiamo di qua a caricare con un correttore che a me piace moltissimo, ma sarò obiettiva nel voto. È il Beautiful Skin Radiant Concealer di Charlotte Tilbury nella colorazione 4 Fair. Allora, anche qua, colorazione fantasmagorica, rassomiglia un po' a quella di Kiko, vedete? Ovvero, quella colorazione furbissima, che sembra neutra, vedete? Invece, poi, aperta, ha un sottotono correttivo per l'occhiaia. Quindi, sicuramente, colorazioni ben pensate. Allora, adesso ci pensiamo al voto, ma una cosa ve la devo dire. A tanti non fa impazzire perché è troppo illuminante questo correttore. Io, se devo essere onesta, su di me non vedo tutta questa luminescenza. Magari, sicuramente, adesso che l'abbiamo messo col Kiko, possiamo vedere che, vedete, anche girandomi così, qui forse è più luminescente, ed è vero, rispetto a Kiko è più matte. Quindi, è una verità, anche perché provandolo su altre persone, sul lavoro, è vero. Cioè, lui è bellissimo, non fa le pieghette, è molto elastico, molto idratante, quindi io lo amo. Su me stessa mi piace infinitamente, e la 04 è pazzesca. Diamo, appunto, un 8,5 solo, e mi piange il cuore, vi assicuro, solo ed esclusivamente per la questione luminescenza, che a molti, magari, non fa impazzire. Però, per il resto, caricare a tutte le carte in regola, forse per me, sarebbe anche un 9,5, e ve lo dico. Solo che sto cercando di essere obiettiva, facendo un riassunto nella mia testa, di questi correttori utilizzati anche sul lavoro. Così può essere anche più utile per voi, come review. Però, dobbiamo essere onesti, guardate che belli questi due. Davvero, ambe due, molto, molto belli. Dato che li sto struccando, un'altra caratteristica di questo correttore qui di Kiko, quello che ho messo di qua, è che lui proprio si attacca per bene, cioè si fissa bene, si ancora alla pelle, e quindi, non dico che è difficile struccarlo, assolutamente, però ha anche un'ottima tenuta. Guardate, per esempio, la facilità dello struccaggio di questo qui di Charlotte Tilbury, invece di là si era proprio ancorato alla pelle. Dico tutto ciò perché faccio questo video, che possa essere di interesse. Perché vuoi dirlo, Erika? Cioè, il concetto nella mia testa è che dico più cose possibili in merito a questi correttori, così che questo video possa essere utile. Ecco, così è detta meglio. Adesso, cari e care, vi faccio vedere un altro correttore solido, materico. Talmente l'ho utilizzato, questo sì che è andato dappertutto, perché ne ho uno solo, ed è il Puro Bio 05. Dunque, allora, anche qui, materico, quindi vi ho spiegato che va a fare un effetto più riempitivo, naturalmente, quando i prodotti sono materici. Quando sono materici, no spugnetta, e la colorazione 05 è pazzesca, cari e care. Cioè, è proprio questo neutro, anche lui, neutro rosino peschino, davvero fantastico, per quanto mi riguarda. È bellissimo questo correttore, è una roba pazzesca, cari e care. Siccome c'è qualcosa di ancora meglio, se è possibile, Io qua gli do un 9,5, 9.75, perché è fantasmagorico, davvero. E non gli do un 10, perché per un contorno occhi, magari, grasso, cioè a livello pro, non so se lo utilizzerei, per il semplice fatto che lui è ceroso, è proprio una cera, vedete? Puro bio, questo qui. Cioè, non me l'aspettavo, io lo conosco da tanto tempo, lo sapete, ve l'ho già citato. Gli do un 9,5 solo per queste motivazioni, però, anche se avete il solco, appunto, lui va a riempire un pochino. Vedete che qui sembra che avevo l'occhio più basso, qui è un po' più rialzato, perché è andato a riempire. Fantasmagorico questo correttore. Di qua, invece, andiamo con il Fenty Beauty. Questo qui è il We're Even, colorazione 170C. Anche questo, spoilerone, ma naturalmente questo video è di correttori on top. Ottimo, ottimo anche questo correttore qui. La sua caratteristica principale è che è bello, idratante ed elastico, ma nel contempo ha anche una coprenza sbalorditiva. Quindi, cari e cari, anche qua siamo a votazioni molto alte. Quindi, ribadisco, io tengo il 10 per il mio preferito del video, in assoluto, perché lavorando anche a livello professionale, vedete che questo è più ceroso, si vede proprio anche da video. È più ceroso e quindi potrebbe risultare un po' più grasso, c'è fatica. Facciamo così, a questo gli diamo un 9 e a questo gli diamo un 9,5, perché comunque può essere sicuramente più universale. Può andare bene alla maggior parte delle persone e comunque è fantastico, perché non fa pieghette, cari e cari, quindi se cercate questa cosa come la vostra cosa più importante, io lui ve lo consiglio. E anche se cercate un correttore, appunto, idratante. Come coprenza, siamo ad alti livelli, per quanto riguarda tutti e due, stiamo parlando di ottimi, ottimi correttori. Segnateveli in questo video, anche a seconda delle vostre esigenze. Io ho cercato di dirvi il più possibile quello che ho testato, sia su di me che sugli altri. E adesso, cari e cari, è arrivata una coppia veramente bomba, perché questa coppia di correttori è la coppia più coprente, praticamente, in assoluto del video. Io partirei subito con il Tarte, lo Shape Tape, nella colorazione light. Questo qui è famosissimo, era ancora più famoso, più ai tempi d'oro di YouTube. Vi devo dire che questo correttore, cari e cari, appunto, è uno dei correttori liquidi più coprenti al mondo. Cioè, se cercate un correttore liquido, che abbia una coprenza come quelli solidi, devo dire che questo fa paura. Cioè, fa paura, cari e cari. La texture è ottima, io mi ci trovo benissimo, lo amo. Fosse per me, anche lui, sarebbe un 10, senza problemi. Anche qui, siccome l'idratazione, dopo un po' di ore, potrebbe venire a mancare, quindi il 10 avrà sia idratazione che coprenza ottima, gli devo dare anche a lui un 9,5-9.75. Adesso me lo segno, proprio per questa motivazione qui. Però vi assicuro che è uno dei più coprenti, quindi questo ve lo devo dire, perché è uno dei miei preferiti da sempre. Esempio, se devo fare uno smokey eyes o qualcosa di bello pesante, che non deve avere l'occhiaia sotto, cioè, io utilizzo questo. Qua andiamo con un altro correttore molto coprente, che io, cari e cari, utilizzo anche per le macchie sul corpo. Quindi, lui rimane bello elastico, formulazione stupenda, colorazione stupenda, molto coprente, appunto, ed è marshmallow. Unica cosa, forse è giusto, giusto, giusto un pelo meno coprente del Tarte. Beh, vabbè, da video sembra più coprente, cari e cari, dobbiamo rivalutarlo? Ok, dobbiamo rivalutarlo a questo punto, sembra quasi più coprente. Dunque, io, lui, veramente lo utilizzo anche per le macchie del corpo, perché non mi fa pastone, ha una bellissima texture, e quindi questa, effettivamente, è uno che ha forse un po' peggiore di quella, però devo rivalutarlo da video. Vediamo a tutti e due un 9,5, a tutti e due 9,75, facciamo così. Perché sono molto coprenti, cioè sono i più coprenti, e ribadisco, questo dopo un po' di ore potrebbe leggermente farvi vedere un po' di secchezza, questo anche no, quindi effettivamente non posso dargli meno. Vedete? Questi video servono anche a me per ricordarmi i correttori, lui è veramente fantastico, e anche per quanto riguarda dermatiti, eccetera, eccetera, cioè non si vedono più tutto il giorno, e ha davvero una durata, oltre che coprenza, ottima. Quindi niente, rivalutati, sono allo stesso posto. Eccoci arrivati, cari e care, alla coppia di correttori che probabilmente preferisco, anzi uno di certo lo preferisco in assoluto, ve lo faccio vedere subito, ed è il Bare With Me di NYX. Cari e care, questo correttore è fantastico, ha tutto ciò che io cerco, ovvero idratazione, colorazione. Io adesso vi dirò, sono ancora bianchetta, e quindi vado di 2, la light, la mia nello specifico sarebbe proprio la 3, la vanilla, ma vesto benissimissimissimo anche la light. Una coprenza, anche qui, che fa paura, una coprenza che fa paura per un correttore, tra l'altro, con un costo anche molto accessibile, e un correttore elastico ed idratante, cari e care. Capite perché io non posso, non posso non dare il 10 pieno cum laude, con l'ode, al Bare With Me di NYX. Anche perché, cari e care, lo amano moltissimo anche i miei allievi, che spesso lo portano a scuola, e poi mi scrivono che, dopo il mio consiglio, lo utilizzano, utilizzano solo loro, l'hanno comprato in tutte le colorazioni, come ho fatto io, anche per i clienti. Perché è proprio il correttore perfetto, copre assolutamente, ci sono ottime colorazioni, e rimane bene tutto il giorno, idratando la zona. Quindi, non riesco a trovare un difetto a questo correttore qui, e quindi, per quanto mi riguarda, è un 10 pieno. Vedete? Né troppo matte, né troppo luminescente. Potete anche metterci un velo di cipria sopra, o portarlo anche da solo, perché vi assicuro che non dà problemi. E quindi lui vince, vince a mani basse. Mi raccomando, obbligatorio un commentino qui sotto, se l'avete provato anche voi, e che cosa ne pensate. Di qua, per tenere un pochettino alta la situa, vado a mettere il Best Skin Ever di Sephora, nella colorazione 22, che anche lui mi piace tantissimo, perché è proprio elastico. Cioè, uno dei correttori più elastici che io conosca, assieme al Bare With Me di NYX. Ottima coprenza, anche per quanto riguarda questo qui di Sephora. Si becca, anche lui, un bel 9.75, e per quello ve l'ho proposto, per non sfigurare accanto al NYX. Perché, cari e cari, ricordatevi che questa mia zona qui a destra è quasi peggiore, quindi vi ho fatto vedere, tra l'altro, i correttori migliori. Quasi tutti a destra, perché ho l'occhiaia più importante, anche il solco. Ottimo anche lui, tra l'altro amo moltissimo anche la formulazione del Best Skin Ever, anche di fondotinta di Sephora, quindi assolutamente approvatissimi. Questo qui di NYX, però, è un fuoriclasse. Questi qui li ho tenuti per ultimi, perché sono i miei preferiti, e hanno anche un'alta coprenza. Cioè, guardate, guardate, non ne ho più le occhiaie, praticamente, quindi, fantastici. E quindi, cari e cari, ci siamo! Rullo di tamburi, siete pronti? Tutti questi correttori che avete visto in video sono tutti veramente ottimi. E quindi, al... no, non è l'ottavo posto... Vabbè, insomma, chi ha preso 8 è lo Studio Radiance di MAC. Molto bello, molto idratante, elastico, non ha una copertura estrema. Troviamo poi, allo stesso posto, Charlotte Tilbury e Estée Lauder, per tutte le motivazioni che vi ho già detto in video, entrambi con un bello 8.5 su 10. Successivamente, She Glam, Kiko e Puro Bio, andate indietro a rivedere il video. Se volete, appunto, vedere come performano con un bel 9 pieno, salvatevelo, condividetevelo, scrivete un commentino e inviatelo alle amiche o all'amico che è interessato ai correttori migliori del periodo. Mi raccomando, questo video dovete tenerlo bello, bello, in considerazione lì nel cassetto. Abbiamo poi al terzo posto caricare rullo di tamburi con un bel 9.5, il correttore di Fenty e il cancella età. Ottimi anche loro, chiacchieratissimi, utilizzatissimi da tantissime persone, quindi il motivo c'è. Secondo posto, super rullo di tamburi con un bel 9.75, uno di loro tre, lo abbiamo pure rivalutato in video, vi ricordate? Too Faced, il Tarte e il Sephora, ebbene sì. Loro, secondo posto sul podio, correttori assolutamente, diciamo, imbattibili, nel senso che non li tolgo mai dal cassetto, li ricompro, eccetera, eccetera. È rullissimo, 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 rullo di tamburi, cari e care, con un 10 pieno, vince a mani basse il Bare With Me Concealer Serum di NYX, che continuo a ricomprare all'infinito, piace ad uno sfraccello di persone, quindi provatelo se ancora non l'avete provato. Tutti i correttori che avete visto in questo video, li potete trovare qui sotto, in descrizione, con le shades che io ho utilizzato, e anche i link cliccabili. Mi raccomando, verificate sempre l'infobox, perché oltre ai link cliccabili, ogni tanto c'è anche qualche promo code, che io vi inserisco. Anche questo video è terminato, mi raccomando, fatemi sapere se vi possono interessare delle hit parade del genere, anche per altri generi di prodotti, quindi ne possiamo sicuramente parlare, per esempio il fondotinta. Mi raccomando, scrivetemi i vostri consigli per i prossimi video e per le prossime hit parade qui sotto nei commentini, e noi ci vediamo alla prossima, cari e care. Bye!